La TecniSol Italia nasce nel 1977 dall'esperienza di uno dei capostipidi del polistirolo in Campania. La TecniSol Italia nasce nel 1977 dall'esperienza di uno dei capostipidi del polistirolo in Campania. L'ingegner Michele Fattori, che oggi prosegue il proprio lavoro nel settore del polistirene espanso per l'edilizia, l'imballo e altre applicazioni speciali. Il polistirene, caratterizzato da un'alta flessibilità, unito ai nostri macchinari ed impianti tecnologicamente avanzati, consente la realizzazione contemporanea di elevati volumi di produzioni, con caratteristiche differenziate, che vanno dal foglio dello spessore di 8 mm fino al blocco da 4.000 mm in tutte le densità. La TecniSol si è da tempo specializzata inoltre nella realizzazione di casserature in PSE, operando su tutti i livelli, dalla produzione alla progettazione e consulenza al cliente. Per qualsiasi informazione, visitate il nostro sito www.tecnisol.net o contattateci al numero 081 731 1577 o 081 0607 168. TecniSol Italia, produzione polistirene per uso edile e imballaggio. Siamo ad Arzano, in provincia di Napoli, in corso d'Amato Salvatore 67.